Chiede soldi alla mamma e al rifiuto della donna la aggredisce mettendo a soquadro l'appartamento. E' accaduto a Torre del Greco dove i carabinieri, allertati dal 112, sono prontamente intervenuti presso l'abitazione dell'uomo che aveva picchiato e spintonato sua madre perché voleva del denaro mettendo a soquadro l'intero appartamento. I militari con non poche difficoltà hanno bloccato il ragazzo di 34 anni e gli hanno stretto le manette ai polsi. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la donna è stata portata all'ospedale Maresca dove a seguito degli accertamenti dei sanitari sono state riscontrate delle contusioni al bacino e varie echimosi al volto. Dai racconti della vittima sono emersi diversi episodi di violenza che la donna aveva subito in passato dal figlio. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di poggio reale. Grazie a tutti.